La preoccupazione del Papa per il dopo pandemia, l'egoismo indifferente, un rischio da scongiurare, ha detto nell'Omelia della Messa, celebrata in forma privata nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo, dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che si colpisca un virus ancora peggiore, quella dell'egoismo indifferente. Tutto, ha precisato, comincia dall'idea che la vita migliora se va meglio a me e che ogni cosa andrà bene, se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, ai molari che stanno indietro sull'altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Ancora una volta il Papa ha ribadito che siamo tutti sulla stessa barga. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro. È tempo di rimuovere le desiguaglianze, di risanare l'ingiustizia che mina la radice e la salute dell'intera umanità. La misericordia, ha detto ancora Francesco, non abbandona chi rimane indietro, mentre oggi sembra che solo una piccola parte dell'umanità sia andata avanti. Cogliamo questa prova come un'opportunità per preparare il domani di tutti, senza scartare nessuno, di tutti. Perché senza una visione di insieme non ci sarà futuro per nessuno. Grazie. Grazie. Grazie